Ciao a tutti ragazzi, è benvenuto a questo mio video E' Emanuele il mio sito Oggi avremo un nuovo video Ehm... Oggi è venerdì, quindi faremo cose mie, guardate Vi consiglio di andare a vedere il video che ho fatto prima Ma arrivo subito Questa è la mia lista del progetto del canale Farò allora, ragazzi Il giovedì, Emanuele il show Sarebbe una challenge, ho con i miei amici O con parenti, o da solo Sabato vlog, martedì vlog Lunedì, mercoledì e venerdì Gameplay praticamente, cose che Scelgo io a caso E domenica GTA 5 Oggi è venerdì, quindi Facciamo le cose mie Volevo fare un... cioè, ragazzi Sì, praticamente Volevo Volevo... che cosa volevo fare? Mi ricordo Ah, volevo provare a fare... cioè, a rimanere in piedi così, guardate Un po' difficile perché c'è jeans No, non era questo che volevo, in realtà In realtà che... Un attimo che... È io che gioco con la pallina da tennis Giochiamo No... 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 In realtà... No... 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 Eh, mio amore Vuoi giocare con me? Ti accarezzo la faccia anche se non ce l'hai perchè ti sei rotta, ti sei rotta l'ho fatto ecco mamma mia ragazzi no ragazzi vi devo dire una cosa, questo video aspettate questo video ragazzi è stupido lo so perchè cioè io ragazzi non volevo fare questo solo che non avevo niente, cioè non mi è venuto niente non mi è venuto niente da fare cioè la mente ce l'avevo proprio al posto del mio libro di matematica e praticamente cioè non mi è venuto niente da farlo se ho fatto questo video a giocare con la pallina da tennis ma così a caso perchè non mi andava di fare questo però va bene non fa niente è venuto niente ciao video no non ci ne sanno non è non è non è io aiuto aiuto no mi sembra la lavatrice no la lavatrice vabbè ragazzi Oh, yeah! Oh, yeah! Allora, vivo! La ripresa! Oh! Oh! Oh, no, 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 no! E video! Ma che... Ma che cazzo faccio? Sono 5 euro! Vabbè. Ti caglio. Ma che cazzo faccio? Oof. Eheheh. Mh, mh, mh. mamma mia l'ho preso l'ho preso l'avevo preso no no l'ho preso ragazzi l'avevo preso con il tacco l'avevo preso ok che ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like se non siete ancora iscrivetevi arriviamo a 11 like bolliciate in su veramente tanto domani ragazzi uscirà il vlog come sapete anche e vabbè ciao ragazzi ciao 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 ciao